Ave Maria, cari amici, siamo di nuovo insieme con Padre Gabriele. Oggi vogliamo parlare del peccato, sappiamo quanto la parola peccato sia dimenticata, non si voglia parlare più del peccato, però sappiamo anche che per la nostra vita di credenti è importante definire che cosa è il peccato affinché si possa fare questa lotta spirituale. Ecco che il Catechismo parla del peccato, cito, come una parola, un atto oppure un desiderio contrario alla legge eterna. Quindi è un'offesa a Dio e anche una disobbedienza al suo amore. Una parola della Sacra Scrittura ci propone una definizione con la presenza di Satana che va a incidere sulle nostre parole, i nostri pensieri. E dice la lettera, la prima lettera di San Giovanni Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore dal principio. Ecco questa definizione. Prima di tutto c'è Satana che ci tenta col peccato. Ora il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Ecco, Padre Gabriele, buongiorno. Buongiorno, si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato. Vogliamo entrare in questa lotta per parlare appunto del diavolo che entra in competizione con che cosa? Con la legge eterna di Dio. Il diavolo vuole attaccarci e farci credere che essendo totalmente liberi da Dio allora saremo anche liberi dalle costrizioni che Dio, che la legge eterna ci propone. Come interpretare, secondo lei, e spiegare questa lotta nel mondo oggi e quanto sia difficile uscire del peccato? Noi penso che dobbiamo, come sempre, farci la Sacra Scrittura come primo principio perché la Sacra Scrittura è rivelazione, è ciò che Dio pensa, ci dice, ci ricorda in merito al male, all'esistenza del male e anche la possibilità della liberazione dello stesso attraverso Cristo, l'unico Salvatore. Ma possiamo anche rifarci a quello che sono le rivelazioni private, specialmente fatte, ma che la Madonna, come sappiamo, collega proprio il peccato con l'inferno. Fa vedere, parla del peccato, della carne e poi, ecco, fa vedere questa realtà ultraterranea dell'inferno eterno dove vanno i poveri peccatori. Quindi la conseguenza del peccato, chi non si confessa, chi non si converte, chi vive costantemente il peccato mortale e muore in esso, merita l'inferno eterno. Quindi dobbiamo anche temere, come dice San Paolo, con timore e tremore conseguita la vostra salvezza. Dobbiamo pregare, costantemente vigilare per non cadere delle grinfie di Satana. Parlando ancora del peccato e delle sue conseguenze, potremmo sintetizzare la questione e dire che esso, il peccato, è il vero unico male, anzi è il male per antonomasia. Quindi potremmo anche dire che il peccato, nella sua essenza, è il principio primo di tutti gli altri mali. Come dice appunto anche San Paolo, attraverso il peccato la morte è entrata nel mondo. E quindi dovremmo anche capire, innanzitutto, che siamo anche noi in lotta, perché siamo tentati, come Damo e Deva, a schierarci la parte della falsa libertà, che è appunto quella nel peccato, perché quando noi pechiamo siamo schiavi del peccato, come dice appunto lo stesso Cristo. Ecco, questa schiavitù va in contraposizione, quindi con la libertà, che San Giovanni parla per esempio della libertà dei figli di Dio. E abbiamo, quindi, vogliamo in questo video anche parlare di che cosa sia la libertà, se è all'opposto del peccato. San Tommaso va a definire la libertà come la possibilità di determinarsi per un bene, e intendiamo anche il bene supremo, Dio. Quindi la libertà cosa non è? La libertà non è la possibilità illimitata di scelta, la libertà non è nemmeno nella possibilità arbitraria di decidersi, non è questo, non è l'essenza della libertà, e nemmeno la libertà è in una conoscenza sconfinata di tutte le cose. Quindi un po' per riparlare della volontà e dell'intelligenza, diciamo queste categorie classiche. Come definire la libertà? Io partirei dal punto di vista che la libertà si trova nel fare la volontà di Dio, con una grande V. E allora com'è realizzare questa volontà di Dio? Ecco che la libertà ci deve dare un slancio verso Dio, se è ben indirizzata, perché sappiamo che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, come dice Giovanni a capitolo 8, cosa significa? Che per uscire del peccato l'unico modo di uscirne è di fare la volontà di Dio. Cosa ne pensi padre di questa definizione oppure cosa possiamo aggiungere per farci capire? Io penso che possiamo, come lei diceva, fare questa distinzione importante tra il libero arbitrio e la libertà. Noi siamo creati una immagine di somiglianza di Dio e quindi siamo a essere liberi, abbiamo il libero arbitrio, quindi possiamo fare e non fare, digiunare e non digiunare, fare una certa cosa o lasciarla, tralasciarla, quindi abbiamo questa dignità, l'anima è proprio, l'anima spirituale è proprio questa facoltà, l'intelletto, volontà e memoria, quindi c'è il libero arbitrio. Ma questo libero arbitrio si realizza, si determina nella libertà di Dio, perché Dio, essendo l'essere libero per essenza, soltanto in Dio troviamo la nostra libertà. La libertà indica anche una padronanza che abbiamo sui nostri atti. Per questo Gesù dice chi fa il peccato è schiavo del peccato. Il demonio non è libero perché si è andato contro Dio. Come dice anche il libro del Siracide, chi pecca danneggia se stesso, Siracide 19,4. Ma forse costoro offendono me, oraco del Signore, o non piuttosto se stessi, a loro vergogna? Per questo anche Giovanni Paolo II, in un documento, Riconciliazione e Penitenzi, ha detto poiché col peccato l'uomo rifiuta di sottomettersi a Dio, anche il suo equilibrio interiore si rompe e proprio al suo interno scoppiano contraddizioni e conflitti. Ha detto anche che il peccato è un atto suicida. Quindi davvero vediamo come questo peccato, specialmente quando viene ripetuto, ci domina, ci lega al male e ci toglie da quella libertà interiore per cui possiamo essere anche felici, perché proprio nella libertà dei figli di Dio, di vivere in grazia di Dio, si realizza anche la nostra vera libertà. Il demonio, come sappiamo, non è libero, quindi è triste, portatore di morte, di paura, di angoscia, di insicurezza e quindi dobbiamo cercare, con l'aiuto di Dio, con la Madonna, con i sacramenti, di acquistare sempre più in noi questa libertà interiore che ci rende gioiosi. Ecco, Padre, lei ha parlato di questa libertà interiore e di questa gioia che sarebbe, secondo me, legata ad essere e sentirsi figli di Dio, figli nel figlio, come al momento del battesimo. Ecco perché c'è una gioia sopranaturale in ogni sacramento, perché si va di nuovo a entrare nella figliolanza del figlio e per questo siamo veramente adottati dal Padre. Più in dettaglio vorremmo anche entrare nelle conseguenze del peccato, quale siano e come evitarle e cosa ci permette di vincere sul peccato. Sì, come sappiamo dalla dottrina cattolica la prima grande conseguenza consiste nella perdita della grazia santificante. Quando uno commette il peccato mortale perde la grazia di Dio e anche le virtù infusi, i doni dello Spirito Santo, che costruiscono un tesoro veramente divino infinitamente superiore a tutte le ricchezze materiali di questo mondo. Quindi con la perdita della grazia viene meno anche la presenza amorosa dello Spirito Santo, della Santissima Trinità nell'anima. E quindi cacciamo dalla nostra anima Dio in qualche modo e veniamo, tra virgolette, tempio del diavolo. Gesù non esita a chiamare proprio i farisei, il dottor da legge, figli del diavolo, figli delle tenebre, perché sono inanimati dall'odio, da quel peccato contro lo Spirito Santo che non vogliono aprirsi al dono di Dio. E quindi quando noi pecchiamo mortalmente e viviamo constantemente del peccato mortale, purtroppo abbiamo perso la nostra vera dignità. la nostra vera dignità e meritiamo anche l'inferno evidentemente. Con la grazia di Dio l'uomo diventa erede di Gesù Cristo e con la grazia di Dio l'uomo diventa erede di Gesù Cristo e quindi può meritare il paradiso. Perdendo la presenza di Gesù Cristo si perde anche questa preziosissima eredità per cui come si dice come dice il profeta tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto. Quindi tutte quelle opere di bene che ha compiuto a causa del peccato mortale saranno dimenticate. In più è incapace di meritare perché noi meritiamo soltanto in quanto siamo inseriti in Cristo l'unico che ci può meritare con la grazia santificante. quindi dobbiamo anche per presente questo aspetto negativo davvero tremendo del peccato mortale. Dicevano i santi la morte piuttosto è peccato. Esatto. Ecco con questa spiegazione vediamo bene che il peccato si potrebbe paragonare a una forma di possessione alla fine perché il cuore spirituale si intenebra e allora passa un cuore che è buio invece di andare verso il cuore divino di Gesù quello di Maria quello di San Giuseppe quindi si si crea veramente una 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 chiusura alla grazia anche perché il primo esorcismo il primo esorcismo è proprio quello della confessione generale liberarsi dal peccato perché il peccato lega al demonio e quindi quando noi vogliamo ricevere le benedizioni le preghiere e siamo il peccato mortale questi non ci giovano a nulla quindi prima bisogna confessarci ecco e poi anche il stesso sacerdote deve prima confessarsi prima di fare questo questo queste preghiere di liberazione perché deve essere anche lui libero da qualsiasi vincolo anche quello minimo di qualsiasi peccato beniale per essere così forte in Cristo ecco si vede bene quindi per concludere che la schiavitù del peccato è veramente orrenda si potrebbe paragonare io dico sempre a un tipo di petrolio che abbiamo attorno all'anima che ci impedisce ci incolla ci impedisce di alzarsi verso l'alto di fare scelte buone di usare bene il libero arbitrio di usare bene l'intelligenza la nostra coscienza che ci fa determinare quale sia il bene quale sia il male ecco che la nostra società vive in questi legami tremendi e ovviamente sono sempre gli atti di penitenza cioè di cambiamento del punto nostro di vista di vedere che fanno la differenza sulla mentalità come la spiega San Paolo la mentalità mondana il corpo di sofferenza la morbosità dei nostri atti quindi grazie padre Gabriel per tutte queste spiegazioni molto chiare molto precise che ci piace avere questo modo chiaro di vedere e di interpretare la Sacra Scrittura voglio ancora citare l'ultimo passo che viene da Matteo capitolo 13 41 42 dove appunto il Signore collega proprio il peccato all'inferno quando dice operatore di iniquità via da me il fidele uomo manderà i suoi angeli i quali raccoglieranno tutti i scandali e li gireranno nella fornace ardente dove sarà pianto e storio di denti quindi gli scandali operatori di iniquità sono appunto quelli che vivono del peccato e sono figli del diavolo e vengono gettati nella fornace ardente come dice Gesù quindi ecco non dobbiamo sottovalutare questo pericolo che sovrasta che sovrasta la società dobbiamo evitare il luogo di scandalo vogliamo anche evitare tutte le compagnie che ci portano avere una mente fuscata perché chi commette il peccato e piano piano ecco viene meno anche quella luce della grazia di Dio perché il peccato comunque è anche un fuscamento ci toglie la luce grazie di averci seguiti vi rimandiamo un altro appuntamento prossimamente eravamo noi al benga qui padre Gabriele e Maria fra Giuseppe e io e Maria per una quarta quarto intervento sul peccato vi auguriamo una buona giornata nel nome di Gesù Giuseppe e Maria sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato diamo la bendizione come sempre la chiave trinitaria il Signore il Potente vi benedica vi costruisco nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amore sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato e dillo Spirito e dillo Spirito